La Palestina è da ieri il 195esimo Stato membro dell'UNESCO, ma gli USA bloccano i fondi e l'Europa si spacca. Francia, Spagna, Belgio, Austria hanno votato a favore del raccoglimento dei palestinesi in seno all'organismo culturale delle Nazioni Unite. L'Italia si è astenuta, la Germania invece ha votato contro, insieme a Israele, Canada e Stati Uniti. Si tratta di una vittoria morale, senza implicazioni politiche. Ovviamente questa decisione non libera la Palestina, ma la mette sulla mappa mondiale. E la cosa più importante è che crea una divisione tra Europa e Stati Uniti. A Washington la decisione è stata presa molto rapidamente. Il versamento del contributo americano, che vale il 22% del budget dell'UNESCO, viene bloccato. Uno degli aspetti più pesanti di tutta questa vicenda, dice la portavoce della Casa Bianca, è che sul terreno per i palestinesi non cambia nulla, la loro vita non viene migliorata da quanto accaduto all'UNESCO. Per i palestinesi però non è questo che conta. Al momento l'annuncio dell'UNESCO è un passo simbolico che potrebbe essere seguito dall'accoglimento della Palestina come stato membro in seno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sarà un processo lungo, ma i palestinesi ci sperano, da ieri anche di più.